Ciao a tutti, oggi voglio fare un post in italiano perché potrebbe servire per chi ha un minimo di conoscenza di Python per creare un test per i propri studenti, visto che adesso si fa la didattica a distanza Allora, vediamo un attimo come mandare delle email personalizzate in Python l'ho fatto in inglese, adesso provo a farlo in italiano, magari con qualche cambiamento e qui vedete che dobbiamo fare questo in pratica Allora, iniziamo così da capo, seguendo un po' lo schema che ho fatto io in precedenza Allora, qui vedete che io uso questi strumenti per la didattica, Google Form ma usare Python a volte è veramente utile per esempio facciamo una cosa molto semplice, quindi qui di mandare una email con un esercizio diverso a tutti gli studenti chiaramente bisogna avere l'email, bisogna assicurare la privacy, eccetera però questo sarà compito vostro, però diciamo tecnicamente si può fare così chiamiamolo questo, facciamo una nuova cartella email se riesco email test ok, creiamo questo email test .py il nostro file di Python e dobbiamo importare allora chiaramente qui abbiamo bisogno di una libreria che si chiama smtplib che smtp serve per mandare appunto le email poi io ho scritto questo from credentials import everything questo è semplicemente un file esterno in cui ho le mie credenziali con con i dati la mia password della mia email perché mi servirà la mia email adesso vi faccio vedere anche come fare e from random import choice questo è per fare i nostri esercizi diversi l'uno dall'altro ok quindi importiamo tre cose andiamo a vedere un attimo come si fa ad ottenere le credenziali andate sulla vostra email e quindi andate su google account e andate su manage your google account poi andate su security e dove c'è scritto app password mettete la vostra le vostre coordinate qui la vostra password e una volta entrati qui dovete selezionare mail e come device il vostro device sul quale volete usare questo programma e in questo caso windows computer a questo punto generate la password ok ok non mi ha accettato la password mi sono dimenticato di mettere punto com allora andiamo a rifare ed è andato pare tutto bene bisogna solo controllare ecco le mie due email qui e con il soggetto esercizio quanto fa 7 per 1 ok ok il subject è esercizio e il test cioè quanto fa 7 per 1 la prima email me ne sono mandate due l'altro è 7 per 5 quindi reply il mio studente qui mi va a replicare e poi mi rimanderà l'email tutto a posto e io poi controllerò che sia tutto corretto quindi nessun problema teoricamente io potrei vediamo anche aggiungere per esempio un link mi domando qui sotto potrei mettere a href uguale così per curiosità oppure non so google .com vediamo se posso mandare anche un link che sarebbe comodo rimandiamo il tutto ok qui mi viene anche il fatto del link vabbè poco male ma mi interessa più che altro vedere qui quando mi arriva eccolo ok ci è andato ho fatto qualcosa di mi sono dimenticato l'apostrofo qui qui non ci vuole rimandiamolo ok è andato quindi se è così possiamo anche usare dell'html qui e fare delle cose più interessanti vediamo se no questo è quello sempre di prima questo anche sempre uguale vediamo un attimo perché forse non c'è bisogno di mettere evidentemente questo href c'è l'href non lo legge dovrei fare qualche ricerchina ma se io metto così forse è meglio comunque questo lo lo interpreta almeno google come link dov'è e lì andiamo ad aprire un attimo andrebbe eccolo ok quindi comunque giustamente anche se è un semplice testo lo fa usare e eventualmente voglio indirizzarli da qualche parte bene questo è tutto alla prossima